Più di 60 anni di esperienza che ci hanno permesso di avere il pieno controllo di tutta la filiera produttiva nel nostro stabilimento di Milano alimentato ad energia pulita. Tutti i nostri prodotti sono progettati con sistemi CAD tridimensionali che ci permettono di adattarci alle necessità specifiche dei nostri clienti. L'automazione delle nostre aree produttive garantisce un'alta capacità di risposta. La parte strutturale delle macchine è realizzata da una combinata con laser in fibra e punzonatrice integrata. Le presso piegatrici dotate di controllo automatico dell'angolo di piega definiscono con precisione la parte strutturale. La lavorazione delle lamiere prosegue con l'arrotondamento di tutti i bordi, saldatura robotizzata e pulizia finale in sabbiatrice. La protezione superficiale dei materiali è affidata ad un modernissimo impianto di verniciatura ecologico privo di emissioni. Ogni macchina della nostra ampia gamma di prodotti viene curata in ogni dettaglio fino al collaudo finale così da garantire ai nostri clienti la massima qualità. Anche durante la pandemia Pony non solo non si è fermata ma ha continuato ad investire installando un nuovo magazzino verticale che assicura il miglior servizio di fornitura dei ricambi originali Pony. I nostri prodotti rispettano le più rigide normative di qualità in ogni paese di destinazione e i nostri centri di assistenza in tutto il mondo garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Un accurato imballaggio finale garantisce le perfette condizioni del prodotto alla consegna. Tutto questo significa la totale protezione dell'investimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.